Se scegli Cristo, non puoi ricorre al mago. La fede è abbandono fiducioso nelle mani di un Dio affidabile che si fa conoscere non attraverso pratiche occulte, ma per rivelazione e con amore gratuito. Quanti di voi va a farsi il tarot? Quanti di voi vanno a farsi leggere le mani dalle indovinatrici? Per favore, la magia non è cristiana. Queste cose che si fanno per indovinare il futuro, o indovinare tante cose, o cambiare situazioni di vita, non sono cristiane. La grazia di Cristo ti porta tutto, prega e affidati al Signore.